Se la diaspora africana che vive in Francia, in Italia e in Inghilterra dedicasse metà del tempo che dedica a criticare la Francia, a contrastare i dittatori africani, metà, dico solo metà di quel tempo, non arriveremo alle situazioni che stiamo vivendo adesso in Congo-Brazzaville, in Guinea, in Malì. È troppo facile, stando a Parigi, stigmatizzare la Francia. È troppo facile. Jean-Leonardo Ady, giornalista, docente di geografia dello sviluppo in Africa all'Università Sapienza di Roma, consulente della FAO, sarà tra i relatori del convegno nazionale organizzato da Chiama l'Africa dal titolo I Care Africa, in programma sabato 9 ottobre a Perugia, dove affronterà i temi più caldi dell'attualità legate al continente. Ecco, in gran parte del continente africano resiste e semmai cresce un sentimento di astio e di feroce critica verso la politica francese e i suoi simboli. Ecco, la francofobia ha radici culturali molto profonde, intricate, che risalgono, come dirà, il colonialismo, ma l'ostilità nei confronti di Parigi è proseguita fino ai giorni in oggi. È un atteggiamento che non ha confronti con le altre potenze coloniali. Allora, tu Ady, quali sono i motivi di questo rancore nei confronti della Francia? Lo trova giustificato? Sì, è un dibattito molto presente, soprattutto ovviamente nei paesi colonizzati dalla Francia. C'è un riscontro storico evidente. Il colonialismo francese rispetto al colonialismo inglese è stato un colonialismo assimilazionistico, nel senso che ha voluto, proprio per scelta, trasformare gli africani in dei francesi di pelle nera, quindi l'assimilazione culturale che passava attraverso la lingua e quindi la cancellazione delle lingue locali, questa estirpazione dello spazio e del tempo africano avvenuta attraverso la colonizzazione. Quindi assimilazione da un lato, centralismo dall'altro, per cui gli stessi programmi scolastici in una scuola vicino alle Champs-Élysées a Parigi e nell'ultimo villaggio africano. Gli stessi programmi appartengono a quella generazione che ha recitato nei primi anni di scuola che i nostri antenati erano i Galli, le cime innevate dei nostri monti e i nostri fiumi, la Sena e la Loira, mentre vivevo accanto a uno dei fiumi più importanti del mondo, che era il Congo. Quindi è un dato storico che prende tempo a essere metabolizzato. Io direi, per farla breve, perché non abbiamo tempo, è un rapporto descritto magnificamente da Frantz Fanon, in quel libro magnifico che è Pelle nera, maschere bianche, è un rapporto che si può analizzare attraverso una chiave di analisi psicoanalitica. è il padre, la Francia è il padre che esercita una grande forza attrattiva, perché poi gli africani non lo ammettono, ma c'è una grossa attrazione per la Francia, confessata o non confessata. Non c'è uno che arriva a Roma e che a un certo punto, i miei cugini, i miei amici, je dois aller à Paris. C'è una grande attrazione. Ma nello stesso tempo è anche il padre coloniale che bisogna uccidere per crescere. In questa ambiguità, in questa ambivalenza del rapporto storico e del rapporto di psicologia collettiva nei confronti della Francia, sta un po' tutto il dibattito attuale, determinato anche da errori macroscopici compiuti dalla Francia. parlo della vicenda della costa d'Avorio, parlo della vicenda della regione dei grandi laghi, ma parlo anche del Gabon e del Congo, due paesi estremamente ricchi, che praticamente hanno visto la loro politica eterodiretta della Francia, quello che si chiama la France Afrique, che è un reticolato di rapporti massonici, di rapporti economici, di rapporti di interessi, di rapporti politici, di rapporti militari. La Francia Afrique è questo. La nuova generazione non si ritrova più in questo schema. Il Franco Sefa, quella moneta coloniale poi diventata Franco Sefa, è l'emblema di un cordone umbilicale mai completamente tagliato. Ma nello stesso tempo si può dire che tutti i mali degli africani vengono dalla Francia. A me è bastato leggere una sola volta nella mia vita le memorie di De Gaulle che diceva La Francia non ha amici, la Francia non ha interessi, per capire che non bastava stigmatizzare la Francia che porta avanti i suoi interessi. Noi ci dobbiamo interrogare come africani dove sono gli interessi dell'Africa, chi li porta avanti. E allora è interessante capire, poi magari parleremo anche di politica e di democrazia, se abbiamo un'elite che è stata definita da un autore recentemente un'elite offshore, quindi fuori dalla pasta del popolo, e che non funge da lievito, perché il lievito per fare il suo ruolo deve stare dentro la pasta. L'elite offshore critica oggi la Francia, ma mentre sta criticando la Francia va a cercare i mercenari russi per risolvere i problemi in Repubblica Centroafricana, i mercenari russi per risolvere i problemi nel Mali, andremo a vedere come andrà a finire, e questa elite che critica il colonialismo, il neocolonialismo francese, la France-Afrique, permette che la Cina, in modo assolutamente simile nelle modalità a quelli della Francia, possa occupare il terreno economico e finanziario. Questo è il grande dilemma. Quindi, diceva Joseph Kisebo, quando punti il dito contro l'altro, ricordati che ci sono altri tre puntati contro di te, può essere un alibi quello della critica della Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la fine dell'operazione Barkan, che dal 2014 vedeva oltre 5 mila militari transalpini schierati nel Sahara, a contrasto dell'insurrezione jihadista, che colpisce soprattutto Niger, Mali, Chad, Burkina Faso. Ecco, il nuovo capo di Stato Maggiore, il generale Thierry Bucarda, ha annunciato l'inizio del ritiro del contingente militare. Le basi militari nel nord del Mali, lasciate dai francesi, saranno occupate dai soldati dell'esercito maliano e dai caschi blu della Minusma. Ecco, l'impegno bellico di Parigi nella regione saheliana, costato peraltro la vita a 45 soldati francesi, non è riuscito a riportare stabilità e sicurezza. Nel corso dell'anno si sono registrate più di mille vittime civili di massacri compiuto da varie milizie, decine di migliaia le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case. Ecco, Tuadi, si rischia con il ritiro, diciamo, dei soldati francesi una situazione afghana? Come si recupera il Sahel? È una situazione forse la più emblematica dell'impotenza africana rispetto alla capacità di dare risposte anche di tipo militare a problemi africani. Quanti sono i decenni in cui noi diciamo soluzioni africane a problemi africani? Abbiamo creato un consiglio di sicurezza dentro l'African Union, l'unione africana. Nell'agenda per l'Africa, dell'agenda 2063, sono delineate parecchi idee strategiche importanti sotto questo punto di vista. Abbiamo iniziato una riflessione a partire dal genocidio ruandese che è stato per noi al di là delle discussioni su questo conflitto, ma simbolicamente abbiamo toccato con mano noi africani come piano piano siamo passati dalla violenza del padre coloniale contro il figlio colonizzato alla violenza di Caino contro Abele, la violenza dell'africano contro l'africano. E abbiamo capito in quei anni, anche con Butros Gali che scrisse un libro che si chiama Agenda per la pace, che se l'Africa non si dotasse di strumenti di prevenzione e anche di strumenti di peacekeeping, e se c'è bisogno di peace enforcing, ma strumenti africani, sarebbe difficile poi parlare di stabilità politica e di sviluppo economico. Cioè la questione della pace è una questione di sopravvivenza, per contrastare questa violenza di Caino contro Abele che ha impervestato in Liberia, in Sierra Leone, che ha impervestato in Sudan, che ha impervestato in Angola. E la questione del Sahel che tu mi poni sta lì drammaticamente a dimostrare il fallimento di questo tentativo da parte degli africani di prendersi in mano. Il G5 Sahel, che in questi anni si è radunato otto volte a Parigi, in Francia, e forse due volte nel continente africano, la dice lunga, la dice lunga sulla incapacità di prenderci in mano e di mettere su un contingente che sia in grado di contrastare quello che sta diventando pericolosamente un Sahelistan, come lo dicono gli esperti. Detto questo, la soluzione militare sicuramente non basta, come lo dicono tutti gli esperti. Le questioni del Sahel hanno radice antiche, hanno radice nelle composizioni etniche, anche nel carattere nomade del deserto, che per natura era un luogo aperto che i confini coloniali hanno in qualche modo cercato di imbrigliare, ma le popolazioni non hanno seguito questo delineamento delle frontiere. Quindi ci sono dentro questioni etniche, questioni politiche, questioni sociali. Chiunque viaggia a Niamè, a Bamako, a Ouagadougou, ma si rende conto di questa massa di giovani clochardizzati, senza perspettiva, senza nessuna possibilità, se non l'immigrazione, quella questione sociale immagrida vendetta se non viene affrontata. Quella però non è che te la può affrontare la Francia, questa è una questione prettamente africana. Cioè l'Africa deve tornare a fare politica, politica sociale, politica culturale, politica del lavoro per i giovani e queste responsabilità non sono della Francia, sono degli africani. Torno a dire finché le elite africane saranno elite offshore sarà complicato affrontare questo. Dobbiamo tornare a fare politica e non solo a celebrare riti elettorali vuoto, vuoti, vuoti di senso. e noi ringraziamo Gianna Leonardo Adì che ricordo è giornalista, docente di geografia dello sviluppo in Africa all'Università Sapienza di Roma e consulente della FAO e sarà tra i relatori del convegno nazionale organizzato da Chiama l'Africa dal titolo iCare Africa in programma sabato 9 ottobre a Perugia dove continuerà a discutere, continuerà a confrontarsi, continuerà a sviluppare i temi che avete sentito in questa lunga e stimolante chiacchierata che ha voluto condividere con noi. Grazie Marco e grazie alla rivista Africa. Grazie a tutti.